Leonardo Silva Revisore Vorrei che provaste a ricordarvi dell'ultima volta in cui vi siete persi. Dell'ultima volta in cui vi sia capitato di ritrovarvi in una situazione come questa. Non a consultare un quotidiano con un capello da cowboy al bordo della strada. Ovviamente di sbarrirvi nel tentativo di girovagare per una città sconosciuta in un luogo poco conosciuto. Beh, sono quasi certo che se chiedessi a qualcuno di voi se gli sia successo recentemente di perdersi e chiedessi a coloro a cui sia successo di alzare la mano qui in sala, le mani alzate sarebbero poche. Possiamo provare. Quanti si sono persi negli ultimi cinque anni? Beh, ok. Diciamo che tutti coloro che invece non hanno vissuto questa esperienza sono stati aiutati da una tecnologia che da qualche anno a questa parte è a portata di mano e anche a portata di tasca. È quella che tutti chiamiamo impropriamente GPS. Impropriamente vedremo perché. Ma il GPS è soltanto l'ennesima soluzione tecnologica che l'essere umano è riuscito ad escogitare per risolvere un problema così primitivo che qualcuno lo definirebbe addirittura un senso. Il senso dell'orientamento, appunto. Sappiamo che scientificamente il concetto di senso è decisamente labile, ma ci basti pensare, almeno per questa sera, che il senso dell'orientamento congiunge una serie di capacità che l'essere umano ha acquisito nella storia, tra cui la localizzazione e la navigazione. Con la prima intendiamo la capacità di determinare la nostra posizione rispetto ad un sistema di riferimento condiviso, mentre con la seconda descriviamo il modo in cui procediamo da un punto di partenza ad una destinazione, da un punto A a un punto B. Quali caratteristiche ha il nostro moto? La velocità? L'accelerazione? Se facciamo qualche passo indietro, di qualche anno ormai, dovremmo ricordarci come si utilizzavano questi strumenti così antichi oggi. Le cartine stradali, le mappe. Beh, per navigare e posizionarci con questi strumenti facevamo continuamente riferimento alla realtà circostante, confrontandola con le caratteristiche rappresentate sulla cartina stessa. In questo modo definivamo una serie di dettagli della realtà, riportati in scala, semplificati sulla cartina, che chiamavamo punti di riferimento. Così come erano punti di riferimento i fari per gli antichi navigatori, oggetti luminosi, disposti lungo la costa, per favorire la navigazione delle navi. In zone costiere, appunto. Sfiderei però chiunque di voi a mettere in gioco le proprie capacità e il proprio senso dell'orientamento in una situazione decisamente meno confortevole. Come ad esempio questa, la navigazione in mare aperto. Magari in una giornata come questa, in pieno giorno, senza la possibilità neppure di osservare la posizione del Sole rispetto a voi. Ebbene, vi assicuro che le vostre capacità di orientamento in questa situazione sarebbero totalmente azzerate. Come si è risolta questa situazione anticamente? Gli antichi navigatori capirono subito che potevano fare affidamento su una particolare fortuna che si potrebbe definire in un certo senso astronomica, che non riguarda solo il pianeta Terra ma tutti i pianeti. L'asse di rotazione del nostro pianeta è infatti approssimativamente orientato verso una stella, quella che conosciamo tutti come stella polare, Polaris. Una stella fissa della costellazione dell'Orsa Minore che ha rappresentato per secoli la bussola degli antichi navigatori. Sì, perché un singolo punto di riferimento nel cielo che non subisce il moto apparente del resto della volta celeste può fornire unicamente un'indicazione simile a quella di una bussola. Gli antichi greci erano capaci di determinare la latitudine osservando l'angolo che la stella formava rispetto all'orizzonte, quello che oggi chiamiamo elevazione. Ebbene, non è sicuramente sufficiente una bussola per navigare ed è per questo che se cerchiamo la definizione di bussola su Wikipedia vediamo che una bussola, insieme ad un orologio e ad un sestante, forniscono un accuratissimo sistema di navigazione. Non discuterei dell'efficacia di questa definizione, chiunque può editare Wikipedia, probabilmente questa voce l'ha scritta qualcuno di voi, ma sono sicuro che i ricercatori del gruppo di navigazione di cui faccio parte, quel Politecnico di Torino, avrebbero qualcosa da ridire sul concetto di accuratissimo. E lo dimostra il fatto che nessuno di voi, e spero in questo caso che le mani alzate siano un po' meno di prima, abbia un sestante in tasca. Ve lo confermate? Ok. Ma lasciamo da parte per un attimo il sestante, ormai in disuso da diverso tempo, ma perché mai un orologio? Beh, il motivo, se vogliamo, è semplice. Se non possiamo fare affidamento su punti di riferimento fissi, come lo è la stella polare, siamo costretti ad appoggiarci a punti di riferimento mobili. O sono loro stessi a spostarci, o siamo noi a spostarci rispetto a loro. Ebbene, in questo caso, capire in che istante li stiamo osservando è di vitale importanza per comprendere la nostra posizione. E quindi il tempo, il secondo ingrediente fondamentale per un sistema di posizionamento e di navigazione. Il tempo che anticamente veniva misurato, come vedete a sinistra, meccanicamente, ma si misura oggi in modo estremamente più preciso grazie all'uso di orologi atomici. Orologi che funzionano grazie alla frequenza di risonanza di alcuni elementi fondamentali, come il cesio, l'idrogeno, il rubidio e molti altri, e che sono in grado di perdere un singolo secondo nell'arco di 15 miliardi di anni, più dell'età dell'intero universo. Questi sono gli orologi che oggi garantiscono a noi la precisione sulla misura del tempo. Ecco che abbiamo definito gli ingredienti fondamentali di un sistema di navigazione, i punti di riferimento e il tempo. Partendo dai primi, nel 1960, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti decise di escogitare una soluzione piuttosto economica e pratica che fu quella di lanciare in orbita una serie di satelliti per favorire a tutti le proprie capacità di navigazione e posizionamento. Nacque così il progetto Transit, che fu creato e progettato per scopi squisitamente bellici, per controllare il moto dei missili balistici, ma fu di fatto l'antenato di quello che oggi conosciamo con il nome di GPS, Global Positioning System, un insieme di 32 satelliti che dal 1973 ci garantisce la possibilità di posizionarci in qualunque punto del globo e in qualunque momento. Ebbene, se facciamo qualche passo indietro anche in questo caso, capiamo che però fino agli anni 2000 nessuno di noi poteva fare uso di navigatori satellitari. i primi navigatori satellitari per auto comparvero successivamente al 2000, proprio perché in quel periodo il sistema GPS era ancora affetto da un disturbo volontario che riduceva la precisione e l'avrebbe reso praticamente inutilizzabile per gli scopi per cui lo utilizziamo oggi. Anche sulla terraferma il progresso è stato velocissimo, così veloce che in pochissimi anni si è riusciti a realizzare ricevitori così piccoli che ne ho in tasca uno dall'inizio del talk e nessuno se ne è neppure accorto. Ma l'ottanta per cento dei ricevitori GPS o GNSS, per essere più corretti, risiede nei nostri smartphone. E dentro pochissimi anni questi dispositivi saranno più di dieci miliardi su questo pianeta. Aggiungerei che, oltre ad essere capaci di geolocalizzarsi, saranno anche interconnessi fra loro e tenente a mente questo dettaglio. Abbiamo creato un sistema straordinario delle nostre moderne stelle che si vedono anche quando le condizioni meteorologiche non sono ideali. Gli orologi più precisi che l'essere umano sia stato in grado di concepire. Ma se i segnali che riceviamo e la strada che calcoliamo non fosse quella giusta? Mi credereste se vi dicessi che potreste perdervi anche basandovi su un ricevitore GPS. Sì, perché non si tratta solo di navigare. Si tratta di mantenere attive una serie di infrastrutture da cui dipendiamo quotidianamente. Le più insospettabili. Le reti di telecomunicazioni, ad esempio. Il download e l'upload è arbitrato secondo il tempo scandito dai sistemi di navigazione. Le griglie di distribuzione dell'energia elettrica, anche in questo caso, arbitrate e temporizzate dal segnale di tempo dei sistemi di navigazione. Ultimo, ma non meno importante, le microtransazioni ad alta frequenza del mercato finanziario. Ora, tutte queste infrastrutture hanno iniziato ad utilizzare il GPS non perché fosse necessario, ma perché era semplice, accessibile, ubiquo, ma soprattutto gratuito. Immaginate ora se il servizio di navigazione dovesse interrompersi. Un recente studio ci dice che tutto questo costerebbe all'umanità un miliardo di dollari al giorno, senza considerare tutti gli aerei che probabilmente perderebbero la strada. Capiamo subito che un'interruzione portata da fenomeni naturali come l'interazione delle tempeste solari con la ionosfera potrebbe essere veramente, veramente catastrofica per la nostra società così fortemente centralizzata sulla tecnologia e su questa tecnologia. Ma ci sono interventi umani, volontari, che possono mettere a rischio le tecnologie di navigazione, come vedete da questi articoli di crona crescente. L'anno scorso una sfida di droni che si è tenuta lungo il Po è stata interrotta da un attacco di questo tipo. Vedete che ci sono altre notizie battute da importanti riviste, anche scientifiche, che testimoniano che questo rischio è tangibile, reale, attuale. Si chiamano attacchi di spoofing, di miconing, ed è sufficiente mettere insieme alcuni componenti elettronici come quelli che sono contenuti in questa valigetta per poter dirottare un sistema di navigazione che basi la sua capacità di orientarsi su un sistema di localizzazione satellitare. Non è legale accendere questa valigetta, e infatti non lo farò. Ma se lo fosse, nel momento esatto in cui io dessi alimentazione a questo sistema, la maggior parte dei vostri smartphone si localizzerebbero a Helsinki, la città che ho configurato in questo sistema. Un'altra buona metà, invece, diventerebbero inutilizzabili, di fatto. Ecco, non è legale perché per legge non si può trasmettere sulle frequenze utilizzate per la radionavigazione, ma vi basti pensare che un oggetto di questo tipo, per il quale non servono particolari competenze né di elettronica né di navigazione, e con meno di 500 euro realizzabile, basterebbe per dirottare sistemi commerciali di navigazione. E l'abbiamo fatto, non all'aria aperta, perché appunto non si può, ma in una camera anecoica, una safe zone che ci ha permesso di testare questo tipo di attacchi, e purtroppo molti dei dispositivi commerciali che integrano sistemi di navigazione satellitare, ricevitori, sono stati hackerati, se così vogliamo dire. Fotocamere digitali, smartphone, droni che stanno spopolando sia nel mercato sia nei cieli, ma soprattutto scatole nere, quelle che le compagnie assicurative installano nelle vostre automobili per monitorare i vostri spostamenti, fare qualche sconto sulle polizze, oppure per imparare qualcosa in più dai vostri dati. Ebbene, non siamo al sicuro da questo tipo di attacchi, per lo meno non per ora. L'Agenzia Spaziale Europea e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti lavorano a ritmi serrati per garantire la sicurezza dei sistemi di navigazione satellitare, e una strada sarà sicuramente quella dell'autenticazione dei segnali. Sarà possibile ai ricevitori distinguere quali segnali provengano di fatto dai satelliti e quali altri invece provengano da altre fonti non autorizzate a trasmettere. Ma prima che tutto ciò possa essere realtà, ci vorrà del tempo, perché si tratta di aggiornare l'intero sistema. Capite che non è molto pratico raggiungere un satellite in orbita a 20.000 km di distanza per modificare il sistema attuale. Abbiamo deciso allora di provarci direttamente qui, sulla terra ferma. e di unire quei 10 miliardi di dispositivi in grado di comunicare fra loro alle informazioni di distanza che vengono misurate ogni secondo dai dispositivi stessi e cercare quelli che in gergo vengono definiti outliers, ovvero componenti, elementi di questa rete, come potrebbe essere lo smartphone di ciascuno di voi, che stanno misurando qualcosa che non è conforme alle misure degli altri. In questo modo saremo in grado di permettere a quel dato dispositivo di comprendere di essere sotto attacco. Ci auguriamo che questa semplice intuizione, in parallelo allo sviluppo di tecnologie robuste, come ad esempio l'autenticazione dei segnali, impedisca a qualche malintenzionato, un giorno, di prendere possesso del vostro nuovo e fiammante veicolo a guida autonoma, decidendo di portarlo e condurlo a parcheggiare nel proprio box, anziché nel vostro. Ci auguriamo più sicurezza anche per le tecnologie di navigazione. Grazie e buona navigazione a tutti. Grazie. 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 Grazie.